Un finanziamento di 135.000 euro per Villanigra Miasino. Il progetto intitolato Villanigra Cultural Garden, germoglia la cultura nel territorio, è stato presentato congiuntamente dall'amministrazione comunale e dall'associazione Asilo Bianco. Per ottenere il finanziamento Miasino si è affidata alla piattaforma ministeriale di Art Bonus, che permette a dei mecenati di sostenere economicamente attività artistico-culturali. In questo caso il mecenato di Villanigra è stata la Compagnia di San Paolo, che garantirà 100.000 euro. La restante parte invece verrà coperta dal comune. Con questi soldi, spiega il sindaco di Miasino Giorgio Cadei, agiremo su due fronti. Il primo più strutturale, il secondo più connesso alla valorizzazione delle nostre tradizionali rassegne culturali. Entro il prossimo luglio, aggiunge Cadei, ripristineremo il muro di recensione, mentre in autunno ultimeremo la sistemazione di tre sale al pian terreno. Poi cercheremo di rendere ancora più ricchi i programmi dei nostri tre eventi ormai consolidati. Si partirà il 2 e il 3 giugno con Mente Rosmarino, seguito ad inizio agosto dal Festival Miasino Ghezze e a settembre da Corto e Fieno. La manutenzione di Villanigra e il rafforzamento della Kermess Miasinesi danno grande entusiasmo al giovane sindaco in vista dei prossimi appuntamenti. Siamo già pronti, dice, a un nuovo progetto, sempre tramite la piattaforma di Art Bonus, per riqualificare il parco della villa con degli interventi sui vialetti, sulle panchine e sulle piante, seguendo un percorso culturale e botanico adatto ai nostri cittadini e ai turisti.